Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. La persona indicata dalla bottiglia dovrà spruzzarsi il profumo. Ah sì, perché sennò si riconosce il profumo. E dare un bacio con la lingua al giocatore bendato. Sì, certo che ci mettiamo, sì certo che giochiamo a questo gioco. Forse non avete capito un c***o. Te davanti a me, te davanti a me, a questo gioco non ci giochi, te lo dico già. E te attacchi il c***o. Sai che così sfidi la mia personalità? Lo so che sfida la tua personalità. Il giocatore... Sì, lo so che sfida la mia personalità. No, 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 no. Sì! Lasciatemi andare via, raga. Non mi deve rispondere così, raga. Io non gioco tanto, non mi deve rispondere così, ragazzi. Perché vado fuori di... Ma raga, spacco tutto, raga. Aspetta, aspetta, aspetta. Spacco tutto, davvero. Vado fuori di testa. Non si gioca. Vado fuori di testa, raga. Perché io non si gioca. No, lei non gioca, decido io. Bravo. Ma chi sei? Hai ragione, è vero. gioca perché il gioco della bottiglia si gioco al gioco della bottiglia si gioco chiudi perché davanti a me la bottiglia di stata non se ne parla proprio raga io non me la sbaglio non se ne parla non se ne parla nessuno lo vuole fare però tranquilla io non me la siedo io sono il primo che ti capisce se tu stai giocando come dici giochi fino alla fine dammi 5 questo gioco non si fa lo decido io adesso mandatemi via fate quello che volete cioè io questo gioco non si fa raga non scherziamo quindi giochi non giochi che ci sono i poli regole una persona quindi giochi ragazzi perché chiedete a me ho notato che nikita comunque secondo me sotto sotto non gli ho fatto un c***o di matteo non esiste non esiste raga spacco tutta la villa io ho una donna amato della vita lei e mi piacerà per sempre non voglio decidere per lei ora che mi porta la brocca ma che mi porta la brocca vai tra vi prego ma cos'è siamo un gruppo giochiamo tutti quanti cacci le palle visto che hai fatto fino adesso il galletto io qua io la io su io giù ma cosa sono ste scenate lancio le sedie lancio qua lancio la e poi che cosa io voglio essere caro davanti a tutti allora tu per me per quello che ho visto io sei stato il gallo fino adesso della casa però quello che ti dico io che se uno fa il gallo lo fa fino in fondo tu non sai nessuno per decidere tutto quello che bisogna fare io tu no tu no tu no io non gioco lei non gioca perché lo decido io ma chi sei ma io non capisco se lo sai proprio per te o perché non vuoi che gioca lei lei non lo fa punto lo decido io forse non ci siamo capiti lei davanti a me questo non lo fa punto lo decido io non me ne frega se c'è qualcuno che ha qualcosa di incontrarmi me lo dica adesso per me è una persona che vale tanto c'è piccola così punto tu non puoi dire tu non gioca no invece invece non c'è non c'è un contratto che dice che tu non puoi spasare ho il faso di brutto non me ne frega un c**o con il tempo in mano in picco tutti non me ne frega un c**o Mattia proprio fuori di testa mi stavo tutti i cerraviezzi mi stavo tutti mi stavo tutti dal momento c'è cosa proprio da orbi non davanti a me perché neanche io non davanti a me perché neanche io ma che c**o è che dici mi c**o davanti alla mia storia ma è una donna è singola può fare quello che vuole metti un punto a sta c**o di frase però perché stai parlando solo te Mattia è una grandissima m*****a lei è una persona di c**o di m*****a per me può giocare sì sono un suo ex sono stato l'unica persona che qua dentro sei confrontata con le c**o mi fai parlare tu decidi che lei non può fare un gioco rovinando la serata a tutti davanti a me la mia ex fidanzata non limona con nessuno è la mia ex mia ma tu stai scherzando la mia ex ragazza mia ma vuoi dire di tu non c'è niente ma tu che c**o sei una donna che vengono di tu di tu non c'è niente tu che c**o sei Fabi speravo che fosse un po' cambiata invece no la donna è libera non è tua tua non esiste purtroppo sei una donna purtroppo sei una donna e con te non possono parlare hai ragione forse sei una donna forse sei una donna hai ragione perché sono più uomo di te eh sì il secondo giorno non dicevi fai dentro poi gallo donna tua tua quindi giochiamo a sto gioco ragazzi io ero gasatissima finalmente un po' di ormone Greta voleva baccarti tutti i giocatori che c**o finalmente avevo una scusa per farmi di tutti che c**o mi hai fatto giocare è andato a f***** amo a te e che c*****i Anichi e che c*****i hai rotto il c*****o e due